Dai primissimi incontri attorno alla parrocchia in cui erano coinvolte persone che venivano a titolo personale o persone di realtà locali all'interno della dioce di 10 reale, la CR, la Caritas e la comunità Papa Giovanni XXIII abbiamo iniziato a parlare insieme, a incontrare da lontano la storia di riscappa dalla guerra in Siria una guerra che è iniziata nel 2011 e che purtroppo ancora non continua e continua a produrre famiglie che si perdono famiglie che perdono tutto, perdono la propria casa e non hanno un posto sicuro in cui stare molti di loro vivono in Libano e dal Libano grazie all'incontro con la comunità di Sant'Egidio, con la CEI, con la Chiesa Valdese hanno la possibilità di poter rientrare nei corridoi umanitari noi a Sant'Egidio ci siamo preparati molto per poterli accogliere, ci siamo discontrati c'erano delle tante cose che dovevamo imparare e che avevamo bisogno di tante cose per potergli dare una casa per potergli dare, ecco, per poter predisporre insieme un cammino anche ecco di ricostruzione di questa famiglia e di un cammino in cui potessero diventare autonomi e ora anche noi siamo chiamati a prenderci cura dei fratelli più fragili quali sono i nostri fratelli della Siria che non hanno la possibilità di poter vivere la propria nazione e fungono per trovare un'accoglienza allora anche noi come Chiesa, come Caritas, sposiamo quello che già la comunità Giovanni XXIII ha fatto ovvero sensibilizzare affinché sempre più si possono creare queste esperienze di corridoi umanitari in fondo il corridoio umanitario è la via dignitosa con la quale possiamo aiutare chi perde la propria casa e la propria patria il progetto Santa Venerina abbraccia la Siria è il progetto che accoglie oggi una famiglia siriana nel comune di Santa Venerina nasce nel 2020, quindi in pieno Covid quando un gruppo di persone attorno alla parrocchia di Santa Venerina inizia a riunirsi e a parlare appunto del progetto di corridoio umanitari che è un progetto che permette a persone che hanno un vissuto di guerra e che vivono in paesi terzi considerati non sicuri per loro di poter arrivare in Italia tramite appunto un progetto di migrazione legale sicura quindi con la possibilità di poter accedere a un visto di ingresso in Italia per motivi umanitari e ecco la nostra storia grazie a questo progetto si è unita con quella di questa famiglia che è arrivata poi nel 2021 che è composta dalla mamma, dal papà e da quattro bimbi che allora avevano un anno e mezzo, due piccolini, quattro anni e sei anni e invece le due bimbe più grandi poi ecco è stato un percorso molto bello perché siamo partiti che eravamo un gruppo di una decina di persone però poi l'accoglienza vero e proprio è stata fatta non solo da noi che siamo rimasti e che siamo stati presenti appunto per la famiglia in ogni bisogno però tutta Santa Lanerina si è dimostrata molto accogliente anche nelle piccole cose, le classi che hanno ospitato le bimbe a scuola e il comune che ci ha aiutato in molte cose ma anche proprio le strade di Santa Lanerina che si sono dimostrate molto accoglienti nei confronti di una famiglia che è scappata dalla guerra accogliere loro è significato da un lato predisporre l'accoglienza fisicamente quindi trovare una casa, fare un inserimento scolastico l'insegnamento della lingua italiana ma anche il fatto di esserci per una famiglia che purtroppo ha perso la casa in tanti sensi che si è sentita sola per molto tempo perché adesso ha bisogno di ricostruirsi non penso che non è suo purtroppo stia dietro tante ferite della guerra quindi accogliere non è stato solo materialmente ecco creare le cose ma anche esserci, diventare quindi amici diventare persone vicine in questo percorso di accompagnamento che oggi ha portato l'autonomia dopo oltre due anni che la famiglia da noi adesso sono autonomi parlano bene l'italiano e sono inseriti e ci siamo resi conto che sicuramente la cosa che principalmente ha portato alla riuscita di questo progetto è stato il cuore che tante persone ci hanno messo e il bene che ci siamo voluti a vicenda abbiamo progettato una serie di incontri e seminari aperti al pubblico e quindi anche al territorio nell'ambito di un progetto educazione alla mondialità e alla pace ormai inserito nel piano dell'offerta formativa di questo liceo da tantissimi anni e con tutte le filiazioni che sono le varie definizioni in termini di alternanza scuola-lavoro PCTO cioè percorsi trasversali per l'orientamento che fanno capo a questo progetto educazione alla pace e ai diritti umani alcuni di questi progetti hanno dei rapporti con organizzazioni e partner esterni come Emergency o la Giovanni XXIII oppure Comitato 3 Ottobre con il quale quest'anno abbiamo progettato uno stagio a Lampedusa e tutto il progetto ruota intorno soprattutto al rapporto fra politiche migratorie e diritti umani e in particolare alle contraddizioni fra le attuali politiche italiane ed europee in merito ai migranti e la tutela dei diritti umani molto spesso affidata soltanto a organizzazioni non governative oppure associazioni di volontariato quindi i nostri progetti sono del tutto innestati all'interno del territorio locale e globale attraverso una rete poi alla fine di contatti che secondo il mio punto di vista il punto di vista della mission di questo istituto in realtà aiutano, contribuiscono a formare i cittadini che sono i nostri studenti, le nostre studentesse in realtà e grazie è è